Siamo da questo aeroporto e atterriamo a Resquare Da Resquare, sì, sì Quindi la rotta sarà Resquare 1 o Resquare 2? L'1 dai, così più vicino Resquare 1 Resquare 1, quindi rotta Sarà un 1, 2, 0 Possibile? 120 gradi? Comincio a fare start 120 gradi può essere Perché 90 gradi e a est Quello è... 180 e a sud Siamo con la neve Quindi è ancora più difficile Andavamo a prendere... Ti mancava la neve Va bene, accendo il motore Ti ho da capire dov'è l'aeroporto qui Secondo me è qui a destra Ah, beh, beh, sì Qua ci sono degli hangar Che cacchio c'è? Qua dietro degli hangar Io penso che sia questo qui a destra Ah boh, intanto decolliamo Decolliamo qua perché... Qui io, perché dritto Non so Dritto per dritto cosa abbiamo Paura che poi ci infogniamo Aspetta che mi alzo Guardo fuori dalla calotta Dai, anch'io Eh no, si alza anche l'aereo Allora Mi si alza tutto Sto guardando lateralmente Ma Sembra... Vedo una striscia nera Sembra lì più avanti Ah, quella lì più avanti Sì Bravo, bravo Allora, ascoltami Fa la curva alla tua sinistra Curva da te a sinistra Hai ragione, hai ragione Quindi è quello la... Come si chiama la... La tax Si chiama tax, giusto? Io provo ad andare Vado, comincio a muovere Vado, vado, comincio a muovere Ricordati di usare il freno per... Sì Muoviti piano Mi vedi? Scivola sulla neve? Ma un pochino Ma neanche tanto Sono dietro il terra Sì Sembra che vada via abbastanza bene Ti lascio andare avanti Che non voglio venirti addosso Eh, perché io vado piano, no? Tu ce la fai a gestirlo? Sì 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 Perché sai, con la pedaliera È un po' più semplice Sì, è qua eh Fabio Perfetto È qua, è qua, è qua Io mi metto qui a sinistra E tu... Che mi stai a destra Chi è che sta... Atterrando qua? Eh no, cazzo eh Ora mica a tenarci sopra No, ha tirato, ha tirato Ha tirato Ti metto dritto Fermati qui così Dai, stai di qua, cazzo Ma perché? Che due coglioni Quando non riesco a raddrizzare Questo cosa fa? Dove va? Ma è un bombardiere Tu sei... È un bombardiere Sì che sta... Dov'è che... Dov'è che a terra questo? Cazzo sta combinando Cazzo sta combinando questo qua Mamma mia Oddio 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 Eh ciao, ciao Alerica È andato? È andato, è andato, è andato Io vorrei raddrizzarmi un pelo ancora Fabio eh Scusami eh Sì vai 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 Mi sto un pochino anch'io Ok Adesso mi sono messo dritto Ok Però... Però devo stare attento di tenere tutta la mia destra Allora Fabio Eh... Chiudiamo la... La capottina Sì Rotta abbiamo detto 1,2,0 Io proporrei 1,2,0 Come rotta E poi quando siamo lì vediamo Comunque sulla mappa riesci a capire dov'è l'aeroporto Più o meno no? Quando una volta che l'abbiamo individuato Tentiamo un atterraggio Devi registrare Hai già fatto partire? Sì sì il video è già partito dall'inizio Ok Io cosa faccio? Vado prima io? Sì E tu seguimi Due secondi dopo sta qui vado io Sì Sperando di non... Oh occhio che qua sta arrivando un... Che arriva? Sta atterrando un aereo lo vedi? Aspetta che apro la calotta Ah eccolo Ok vediamo se c'è Sta decollando E' atterrato? No E' appena atterrato Fabio E' atterrato Fammi vedere che non arriva Ora sto aprendo No Andiamo Vai Chiudo e vado eh Vai Vado Parto anch'io Ok Forca troia si splitta Sì dai tienilo 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 Ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'hai ce l'hai Perfetto Stacco Di già? Usteria Stacco anch'io Vado Sul carrello Sul carrello E mi porta in rotta Uno due zero Allora viro a destra allora eh Sì Mi vedi? Vediamoti sei già sopra di me di là Se hai già fatto una bella virata Ok sono uno due zero Io sono uno due zero pure io Mi metto dritto Il carrello non mi ricordo se l'ho tirato su E adesso lo tiro su Tu sei sopra Eh c'è il sole contro cazzo Sì comunque ti vedo Fabio eh Sei alle mie ore Una due Non ti vedo? Sì guardati Tirati verso la sinistra testa E sono adesso Ah ecco ti vedo ti vedo Ok 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 A che quota sei settecento metri io Anch'io Tanto non serve che ci alziamo tanto eh Possiamo stare a mille metri Perché se poi dobbiamo atterrare Adesso vado a vedere se siamo giusti con... Sì più o meno ci siamo Ho guardato la mappa eh Perfetto Mi porto a mille metri E poi mi stabilizzo Va bene Oh stiamo arrivando all'aeroporto Che è questo qua lo vedi? Lo vedo lo vedo Lo vedi? Allora ascoltami Io Comincio a dare giù i flap Tiro giù la manetta Cazzo ho aperto la colonna per sbaglio Eh vabbè tanto non... L'avrai persa Quindi... Io provo già a... Ad atterrare Fabio eh Va bene Ho la speranza che... A te che poi atterrò io Devo schiantarmi Il carrello... Però ricordatelo Sì A che velocità sono Trecento Scendi Sì Scendi ancora E vediamo come mi va questo aterraggio Fabio Ah eccoci ti vedo Ti vedi chi è questa... Eh te pareva che picchiavolevi che vaffanculo va... Però vabbè... Niente non è così facile del collare... E' atterrare... Mi sposto un po' a sinistra... Così ti do... Sei sulla pista? Sì Devi rifare il giro... Devi rifare il giro... Devi rifare il giro... Fallo... Con calma... Quando ti senti tranquillo... Ricordati... Insomma... E la velocità è intorno ai 200... 180... Insomma... Una velocità bassa... Perfetto... Perfetto... Una bella girata a destra... Perfetto... Perfetto... Bene... Benissimo... Bene... Abbassati di vuota... Perché sei un po' alto... Perfetto... Perfetto... Cerca di mettere il mirino... pista e mi dicevano che devi far collimare la parte finale della pista dai che ci sei vai appena inizia a toccare terra tirano su un pelino mamma mia vai santo cielo dai dai che ci sei bravissimo bravissimo oh hai fatto un atterraggio perfetto arrivo da te sei un grande cazzarola oh aspetta che mi affianco a te io non posso muovermi perché ho rotto l'elica ma dai sei troppo avanti ma guardalo oh perfetto mamma mia ok state collando io mi lascerò mi lascerò mi lascerò mi lascerò